In occasione della dodicesima edizione della Settimana della Cultura, la sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Ravenna, Forlì Cesena, Ferrara e Rimini ha organizzato una serie di iniziative. Scopriamole insieme all'architetto Agostinelli. Architetto Agostinelli, in cosa consiste la Settimana della Cultura? È una settimana che in realtà dura ben più di sette giorni, perché si apre il 16 e si conclude il 25 di aprile. Un periodo quindi che il Ministero per i beni e attività culturali organizza ormai da lungo tempo, infatti siamo alla dodicesima edizione di questa settimana. Un periodo particolare è la Festa della Cultura. Per tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questi incontri, vogliamo dare l'appuntamento? L'appuntamento è gratuito e l'orario, come già aveva indicato lei, alle 16 per tutti. Sì, l'orario è gratuito ed è l'ingresso gratuito e l'orario è alle 16. Ma questo io mi sono abbastanza dilungato, ma era solo l'iniziativa appunto di sette giorni per sette restauri da me curato. Altri cicli, il Museo dei Ragazzi, e quindi ricordiamo sabato 17 aprile, mosaici con le ali, dal simbolo all'osservazione naturalistica, a cura della dottoressa Muscolino. Mosaico in punta di matita, domenica 18 aprile, alle ore 16, presso il Museo Nazionale. Tutto questo ciclo sempre curato appunto dalla collega Muscolino. Non senza il Museo, mercoledì 21 aprile, alle ore 10.30 nel refettorio. Ed ancora, noterime sabato 24 aprile, nella sala del refettorio, così come mosaico in punta di matita, alle 16 del 25 aprile. Invitando tutti quanti a visitare i musei statali aperti gratuitamente fino al 25 aprile, per Ravenna Web TV, Sala Pietracci.